Paolo Masella e Letizia Petris rimandano la convivenza. I due ex GFini tornano ognuno a casa propria dopo le ferie. Paolo Masella e Letizia Petris hanno concluso, almeno per adesso, le vacanze e dopo aver postato in lungo e in largo negli ultimi giorni si sono nuovamente separati, con il giovane macellaio a Roma e Letizia che invece torna a San Patrignano. Intervenuti in una nuova storia Instagram i due ex GFini hanno svelato che ognuno tornerà a casa sua e per adesso dunque non andranno a convivere, dopo averlo già specificato qualche settimana fa. La storia postata da Masella in un primo momento aveva anche spaventato e tratto in inganno i fan. Alla fine abbiamo deciso che è meglio così, dopo questi giorni abbiamo capito tante cose l'uno dell'altra, è stato difficile ma alla fine abbiamo deciso di separarci, ha scritto Paolo in una prima storia Instagram alla quale ha fatto seguito una seconda. Separarci fino a mercoledì, ha scritto l'ex GFino che dunque tra pochissimi giorni potrà riabbracciare la sua Letizia Petris. Di recente la fotografa è tornata sulla questione convivenza, allontanando l'ipotesi per una serie di motivi rivelati ai fan, ne abbiamo parlato tante volte. Io sono abituata a vivere in campagna, mare, giardino. Roma è da appartamento, sarebbe riabituarsi. Mia nonna ha una grave malattia e ha bisogno del supporto mio e di mia mamma, per il momento è complicato. Più avanti vedremo come organizzarci, se scende lui o vado io. Anche se abitiamo lontani ci vediamo spesso, vedo più Paolo che mia mamma.